Un momento di riflessione, occasione di confronto sulle esperienze fatte, sui progetti in cantiere, ma soprattutto per rinsaldare, al termine della pausa estiva, i rapporti con la squadra che lo affianca nel governo della città. Al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, il sindaco Luigi De Magistris si riunisce in ritiro con la giunta comunale. Presenti i 12 assessori ed il capo di gabinetto Attilio Auricchio. L'obiettivo, spiega il sindaco, è lavorare uniti per il rilancio della città. Rafforzare lo spirito di squadra, perché questa è una giunta con i cambi avvenuti alcune settimane fa, che non ha avuto modo di incontrarsi a sufficienza, perché i ritmi di lavoro a San Giacomo sono impressionanti, invece è opportuno che ognuno possa avere il tempo necessario per comunicare agli altri idee, progetti, riflessioni, critiche, prospettive. Poi dobbiamo fare anche un'analisi sulla situazione in città, sul quadro politico complessivo, il rapporto al governo, migliorare la comunicazione, perché io mi sono reso conto in questi due anni che noi facciamo tantissime cose delle quali i cittadini non vengono a conoscenza. Questo è un tema molto delicato e poi le tantissime cose che stanno per partire, perché noi abbiamo messo in campo operazioni strutturali, abbiamo seminato, i frutti si vedranno di qui a breve, dobbiamo valorizzarli al massimo e comunicarli, quindi due giorni di intenso lavoro per farci trovare tutti quanti pronti per settembre, anche se a questa giunta il Sindaco non è mai andato in ferie, io ho lavorato tutta l'estate, abbiamo avuto un sacco di problemi, ma ho anche messo in campo azioni importantissime che mano a mano i napoletani avranno modo di vedere nelle prossime settimane.